come utilizzare il player interattivo apriamo ad esempio un esercizio i super grooves questo è quello che vedrai sul tuo computer ma ti ricordo che questa tecnologia funziona sia su pc che su mac che su tablet che su smartphone non devi installare nulla questo è quello che vedrai cosa puoi fare tanto per cominciare puoi cambiare il layout cioè tu potresti far partire l'esercizio in questa maniera ma questo player ti permette e io ti consiglio di farlo di mettere full screen il player ok e quindi già di vedere la cosa dimensionata in un altro modo altra cosa che posso fare posso allargare a mio piacere il video ok posso posizionarlo anche al centro e ingrandire dipende come ti trovi io solitamente uso questo tipo di layout posso dalle impostazioni del player aumentare o diminuire la grandezza della partitura in base al device magari che sto utilizzando posso addirittura mettere mancino il player se avessi bisogno questo tipo di visualizzazione posso escludere la partitura se ad esempio stessi usando una base musicale dove non ho bisogno di avere la partitura quindi posso escluderla e qui vedo comunque la traccia audio che scorre che posso anche eliminare ok quindi queste sono le impostazioni principali che posso utilizzare torno destro ora se io faccio play sento questa cosa e vedo la partitura ma questa partitura è interattiva significa che io posso intervenire cliccando posso andare a scegliere quello che mi pare ti ricordo che non devi installare nulla è tutto nel tuo player posso fare una serie di cose ovvero tanto per cominciare posso scegliere quale di queste registrazioni vedere o sentire ad esempio la maggior parte dei video sono fatti in multicam quindi ho dato la possibilità di vedere sia lateralmente che da sopra la testa in alcuni casi vedrai l'immagine del piede ingrandita per gli esercizi della tecnica della cassa quindi in base alle tue esigenze puoi scegliere quale delle due vedere puoi vedere che ci sono altri file perché il concetto di questo corso è studia con me fai tutti gli esercizi per una serie di ripetizioni in questo caso sono 8 quindi questo esercizio in totale dura 3 minuti e 55 e siamo a 85 bpm come indicato 85 bpm potrebbe essere il tempo di partenza ideale per studiare questo esercizio ma se avessi bisogno di rallentarlo un po lo puoi fare a tuo piacere perché qui hai una serie di opzioni relative alla velocità quindi la puoi avvelocizzare o rallentare come ti pare come senti se rallenti esageratamente rischi di perdere un pochino la qualità perché l'audio si stretcia per questa ragione nel momento in cui avrai fatto l'esercizio con me e sarai riuscito a farlo bene ho inserito le basi più veloci in questo caso c'è anche una base di sola batteria che è un suono di una batteria elettronica ma che ti fa sentire perché questo esercizio ha un po' un suono articolato qua siamo ancora velocità 90 per cento la metto 100 per cento quindi puoi sentire anche più chiaramente il suono della sola batteria il concetto che c'è sempre sotto la musica hai sentito che ci sono un basso una chitarra perché la mia idea era quella di farti suonare e respirare il suono vero di quello che succede quando suoni con una band ora l'hai fatto 85 ok proviamo a farlo a 100 bpm quando passi i bpm successivi il video non c'è più non ti serve più perché hai capito come fare i movimenti quindi a questo punto hai la stessa base in alcuni casi hai un'altra base audio e ti eserciti con questo 100 bpm perché naturalmente la vita non è tutta 85 bpm andiamo aumentare e ti porto a risultato ottimale che sarebbe 115 bpm per quanto mi riguarda in questo esercizio quindi 115 bpm avrò sempre il nostro file audio ok dopo 8 ripetizioni è sempre una voce che ti conta 1 2 3 4 e ti porta alla sezione successiva cos'altro puoi fare se ci fosse una parte di esercizio che continua a sbagliare o un singolo esercizio che continua a sbagliare puoi metterlo in loop cliccando su questo tasto quindi se ti servono più di 8 ripetizioni perché non hai detto che 8 ti bastino allora continui sicuramente se non ti viene ti converebbe studiarlo al bpm più basso possibile insomma non a 115 tanto per partire però era per farti capire e se volessi studiare una sola porzione magari ti serve studiare solamente questa porzione di esercizio perché continui a sbagliare solamente in quel punto lì lo puoi fare in questa maniera puoi loop pare esattamente come ti pare se volessi uscire da questo range metronomico ad esempio ammettiamo che ti serve a studiare molto più lento di 85 bpm hai sempre questa funzione che si chiama synthetic synthetic che cos'è è un suono di batteria midi se così vogliamo dire quindi un suono un po bruttino te la faccio sentire ok ma che mi permette senza alcuna perdita di qualità di estremizzare bpm quindi se dovessi studiare lentissimo lo posso fare così come se lo volessi studiare velocissimo ho anche la possibilità di integrare il metronomo cliccando su questo se il metronomo fosse troppo alto posso regolare nel volume cliccando su questo tasto posso volessi utilizzare solo il metronomo senza leggere la partitura insomma ho tutta questa serie di funzioni ti ricordo che il corso è accessibile con qualsiasi dispositivo pc mac tablet smartphone non devi installare nulla non ci sono partiture non ci sono file da scaricare è tutto qui dentro e ti ricordo che con il tuo account hai la possibilità di accedere al corso con tre differenti device un po come succede con netflix o con sky go se avessi bisogno di accedere con più dispositivi mi contatti vediamo di trovare una situazione che possa essere utile per te